E' un risultato che sembrava impensabile, domani mattina presto all'alba apriremo la galleria, quindi questo è un grande risultato, poi siccome si dovranno fare altri lavori su entrambe le gallerie, si farà una valutazione sul doppio senso di marcia della galleria quattro giornate per un periodo ovviamente limitatissimo, su questo ci sono anche un po' idee differenti, quindi vediamo come funziona e decideremo nelle prossime ore. Adesso il dato forte e importante è che domani mattina, quindi molto prima anche dei dieci giorni che già era un risultato eccezionale, apriamo la galleria cosiddetta laziale.